Romina? Eh, ma mi sto a casetta? Eh, ancora non ho fatto ce n'è, però faccio la soccetta, nel bagnetto, nel tipo rogalchino, non vedi, l'ho vista Romina, eh, la mia fidanzatia, non dica la latrina, non dica la mia fidanzatia, non dico, mamma, ma io sono grande, non me faccio le frittatini, ogni tanto dice questa cosa, no, è la scoreria dei coppi, sta andando da lì, eh, va bene. Pronto? Chi? No, non sono io, ma chi è? Ma mi? Ma mi? Ma tu cambi completamente la voce, come faccio il riconoscere? No, non abbiamo ancora mangiato, no, mamma, e non lo so che mangiamo, ma io lo so, finirò che mi sciupo, che te ne devo dire, mamma? Sì, ti chiamo prima di addormentarmi, anch'io te ne voglio tanto, tanto, tanto. Anch'io te ne voglio tanto, tanto, tanto. Cia, cia, cia. La segreta aria. Cia, 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 cia. Grazie. 400 grammi un pezzettino. Il pozzettino piccolo l'ho mangiato come un topolino. Come la zonca, non li mangiati come un topolino. Andate, mi, mi, ma, no, no, facciamo pasta e burro. No, bene, abbiamo rimettuto un topolino di burro. Allora l'ho preso, ho fatto pane, burro e parmigiano. Mi schifo, mamma mia. Ma perché ne facciamo? Mangiamo solo la pasta. Quella ce l'ha mandata a bambina. Che l'ho mangiata anche di te? Tutta la pasta. L'ha rimandata a bambina. Che l'ha mandata a bambina? Che l'ha mandata a bambina, no? Allora niente. Allora niente, non ci mangiava niente. Che idea che ti è venuta, facciamoci un bel brodo. Brodo. Eh, facciamoci il brodo, dai. I dati ci sono. Perché l'ho visti nel frigorifero con la signora Pinarla che stava con cucchiaio con i miei, l'ho preso e ho detto che sono questi pubbetti sbriciolati, li ho buttati sopra ho fatto pane, burro, parmigiano e sale. 12 tanti, ma c'è 12! Eh, lo salato, sì! Eh, infatti ho bevuto tanta. Giulio, ma da che pancia li ho fatto? Perché è tutta acqua, sa? Eh, schifo, se schede, allora non mangiamo niente. Non lo so che facciamo. Ma vado di là in vecino e metto la bella pentola d'acqua calda, così... Ma dai di là male e facciamo proprio i campi! Davvero lo farei? E ma tu te la manci? No, ma tu te la manci! Cotta tutta la mancia! Le crisi che c'era con lui! Eh, la crisi che c'era, la crisi, sì! Senti, ma a proposito di crisi, ma tu stamattina sei andato a fare quel tuo luogo di lavoro? E chi è, l'elefanto? Ma così o no? Ah, sì! E di che si tratta? Campo d'acqua! Campo d'acqua! Che fai, tagli l'erba? No, ci sono i giardiniere! Per qualche levazza! Ci sono i chetti! Per un po' musicale salve! I chetti sono i portatori di mazze! Si fanno un mazza a portare queste mazze! Vabbè, che fai allora? Devo fare il raccoglitore di palline d'acqua! E che lavori? Non lo presenti! Ma come no? Ogni campo d'acqua che si rispetta deve avere almeno un raccoglitore di palline d'acqua! Ma tu hai venuto! Ma non sono le palline d'acqua! Ma praticamente che fai? Praticamente deve andare a raccogliere le pannine che i tipi maldestri mandano nella sabbia, sotto i sottoboschi, nelle sabbie mobili, nella savana, sotto la giungla... Ma non sono le pannine d'acqua! Soprattutto nel temuto laghetto... Ma il temuto da...? Da me perché non c'è una tante! Ma se la pallina va nel laghetto, la resta perché boccazzo che la vada più da entrare! Ma perlomeno ti paga così! Beh penso difficile! Non è che sono andato là dal direttore tutto un grova atlato e dici quanto mi dai? Mi paga! Quanto mi dai? A pallina mi paga! Com' mi paga! A settimana! A metà! Quanto cazzo mi dai? Questi sono lavori che si fanno anche per passione! Ma bisogna essere troppo schizzi notti sul tuo lavoro! Perciò non ne trovi! Per questo! Tu sei i ciuschi! Lo fai! Ma che sta dicendo? Ce l'ha detto! Facci i ciuschi! Ma chi? Ma tu ti risciata proprio! Ma che se tu ti fanno pagare i folletti qua! Capito? Tu sei laureato in fisica! Tu sei un fisico! Un fisico è ghiazzo ma sei un fisico! Già ti abbassi a raccogliere le patine da tutti! E per volta come hai raccolto se non mi abbassi? Non ti fai capire nemmeno quanto ti danno! Ma che lavoro è? Ricercatore! E ti sono sti a chiedere che lavoro fa Giannalberto e tu dici ricercalo e che raga ricerchevano le patote! A lei! A lei! Con tutte queste cose che stai facendo hai trovato qualche cosa? Eh sì! Sì! Ho trovato un lavoro! Di che si tratta? Eh! Facci il dog sitter! E che è? C'è il precepti sitter! Io faccio il dog sitter! Quando io giuro io lo so l'inglese sono laureato no? Dog, cane, vedi bambino e sitter... STAI SITTER! SITTER deve restare cane! Cane che non abbagliare! Cane che non abbagliare! Cane che... Cane che... Cane che... C'è il dog sitter! Eh ma che lavoro è? Dog sitter! Ma fisicamente... Ma praticamente... Porta un fisciale cane nei giardinetti! Mamma mia! Ma questo è il dog sitter! È il dog sitter, sì! Eh va bene! L'importante è che ti parlo! Ti parlo! Ti parlo! Certo uno laureato come me! Laureato? Un maestro elementare in merda laureato! Ok! Secondo te è giusto che un maestro elementare in merda? Ma come dici tu? Porta un fisciale cane nei giardinetti! Ma non lo sei legato a questi schemi! Ma non l'hai visto ieri sera da Sant'Oro che è successo? Qui a destra, a sinistra, a centro... I maestro elementare sono morti tutti qua! Non lo capire! L'importante è che ti pagano! Ti pagano! Ti pagano! Non lo so come mi pagano! Non è che sto andato davvero a dire come me va! O quando me va! O quando me va! Questi sono lavori che si fanno anche per passione! Signor Giulio! L'importante è che ti pagano che dobbiamo pagare le bollette! Come ti pagano! E non lo so! Ma vado a chiedere! Non glielo di chiedere! O me mi pagano! A pane! A giornata! A pisciare! Come mi pagano! A pisciare! Io ti pagano! 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 Io te lo spegno! Io te lo scuolo! Io me lo pagano! Ma sei l'unico! Ma tu mi pagano! Ti pagano! E chi ti pagano? Ti pagano! Ti pagano al litro! Un litro di che? Una piscianza di stanza! E che mi devo portare le bottiglie a presto? Quanto ti pagano al litro? Probabilmente! Quanto ti danno al litro? La mutazione di una piscianza! Quella ti pagano! Quanto ti pagano al massimo? Quanto ha la pezzina verde che non pagano loro? 2,07 euro! E quanti litri fa questo cane? Ma che è un sfumore! Non lo so! Te lo devi informare! Se lo devi informare! Andiamo in giulio! Metti che ti danno un cane che fa mezzo litro! Tu non hai capito che non hai capito! E ti devi informare! Allora, il primo di tutto edita cani di Cirelli! Cani di Sbrichelette! Sbrichling! Ma che sono? Cani Gerracelli! Volprelli! Jack Daniel! Quelli la non te li prendi! Nemmeno un cane! Gerrace! C'è anche dentro! Ma i cani di piccoli noci! Brava! Ecco! Prendi cani grossi! E falli bere! Purti! E come li faccio? Ah! Sai cosa fa? E mi porti i dati a presto! E' bene! Perchè! Mi fanno una passeggiata con pisciata continua! E sto lato con la ipotitica e riempie al tappo! 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 Mi viene soltanto un dubbio, eh! Il cane come lo convince a pisciare nella botiglia? E' quello che gli ha la mira! E io sono sempre lavorato in scienze della formazione primaria! Il centro di scemitati! E il cane fa leggere secondo te! Dei trasmetto soggezione! Ma di te! Ma per favore! Ma neanche crisi! Andano giù! Certo che lavori normali no, eh! Che occupa! Doc Fitter, il raccoglitore di famiglia da cuccius, un lavoro che... scusate! Ma ci credo! Ma ci credo sul palco! Mamma mia! Però pure il posto fisso! Pure da noia dai! Che noia il posto fisso! Tutti i giorni a lavorare! Tutte le settimane devi andare a lavorare! Tutti i mesi ti pagano! Un nipone in cui ci parlano! Assolutamente! Non ce ne parlano! Poi quando arriva là al banco, vado a ci stare i soldi, ti trovi quei stipendi 20.000 euro e te ti riescono tutti i capelli di fondo! Quindi sono lavori fatti per i figli di Monti, i figli da Fornello... Noi no! No, no! Loro già da bambini vanno a insegnare all'università Ma per meriti! Mica perché torno a comandare! noi vado a prendere la pila d'acqua per fare il brodo che fai? mi dai una mano?